Non c'è un po' di tollo, non c'è un po' di tollo Buon appetito un po' di brodo di tollo ragazzi Ah a voi mi piace Stamattina proviamo sempre la chalet shigeru Questa bomba con il zucchero Dentro c'è la crema di Kinder Bueno E il Kinder Bueno Ovviamente il zucchero dolce va molto buona Guardate che dunque Questa è il nostro formato alla L Spogliatello Diretti Buon appetito Ragazzi proviamo il fiocco di novi Di boccella Proviamo un po' Si Pesano così Bello pieno nel senso che pesa Molto buono ragazzi Se abitassi a Napoli Sarà il minimo 20 kg in più Ragazzi abbiamo preso anche una batteria da 100 colpi Sperando che non si ferma nessuno nel portarla a casa Perchè qui Costa soli 20 euro Invece dalle mie parti 50 Per Capodanno ovviamente Ragazzi sta piovendo E' arrivato Glovo con zio Rocco Perchè sta a 3 km da noi E sto diluviando Il corriere si è Bagnato tutto con Il motorino ma abbiamo lasciato una bella mancia dai Compenso Proviamo un po' com'è Allora abbiamo preso 3 cose Questo è Il famoso Con il cuore caldo Cornetto di Gianduia E questo è il Panettone Brioche Pandoro Con nocciola Allora Proviamo un po' di questo con il cuore caldo Oddio Oddio Ho già schizzato fuori tu guardate Ma a vedere Questo proprio per fare la cacca in modo esagerato ragazzi Ma lo devo fare ma Ok 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 E' il cioccolato fondente Guardate Dove mi sto combinando perchè è ancora caldo Com'è il frigo E' un po' caldo E' un po' caldo E' un po' caldo Proviamo Questo Vedi pure questo brucia Che c'è Sarebbe la brioche Pandoro Con la nocciola E' un po' caldo E' un po' caldo E' un po' caldo E' un po' caldo Comunque Per prenderemo 20 kg Non si vede niente Ecco E' un po' caldo E' un po' caldo Troppo pieno ragazzi E' un po' caldo E' un po' caldo Questo merita Questo merita veramente E' un po' caldo E' un po' caldo Questo si Per questo c'è tutta la crema, questo merita proprio, questo è il cornetto con gianduglia e gocce di, no, è granella di nocciole. Questo non mi piace proprio, questo è l'acido e tutto la metto lui nel carrello. E niente ragazzi, se venite a Napoli, provatele, queste cose e diventate obesi come me. La testa è la testa. 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 guardate il cuore guardate il blu guardate il cuore di quello buono brando guardate il cuore di quello ma non è enorme Grazie. 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 Qui è Harry Potter, le zucchine? Grazie. E' un po' di euro, 13 euro. Si, banana l'avevo vesa. Si già, tu mi vuole. E' un po' di euro. E' un po' di euro, e' un po' di euro. Ah, ecco. Questa è la scrittura di i ragazzi. Ecco. Ok. E' un po' di euro. E' un po' di euro. Si, mamma. Ma sono, ma sono fatta. Non si, non si. Ma sento un po' di euro. a toffa a toffa a toffa a toffa